best for soil il vermicompost e informazioni pratiche ciao mi chiamo alfred grand questo video best for soil fornisce un'introduzione alla produzione e all'applicazione del vermicompost alla fine del video si troveranno ulteriori informazioni su questi argomenti guardate gli altri video di best for soil su argomenti relativi al compost e alla salute del suolo il compost è un prodotto che deriva dalla decomposizione microbica della sostanza organica in condizioni aerobiche a seconda del metodo di compostaggio delle dimensioni dell'intensità dell'operazione e del materiale di partenza è possibile produrre una vasta gamma di compost con qualità diverse il vermicompostaggio è il processo di compostaggio più naturale coinvolge i lombrichi epigei come le isenia fetida è importante non superare i 35 gradi centigradi altrimenti i lombrichi non sopravviverebbero il vermicompost ha la più alta diversità di microbi ed è considerato utile per sopprimere i patogeni ma non uccide o disattiva i semi di erbe infestanti pertanto nella produzione su larga scala si raccomanda una combinazione di compostaggio termofilo e vermicompostaggio a causa delle sue caratteristiche particolari il vermicompost di solito non viene utilizzato come il compost e diffuso sul campo in ampie applicazioni oltre alla diversità microbica il vermicompost ha una maggiore capacità nutritiva con nutrienti più accessibili per le piante inoltre il vermicompost contiene quantità significative di fitormoni come auxina, giberelline e citochinine il vermicompost non solo ha qualità superiori rispetto al compost termofilo ma richiede anche uno sforzo significativamente maggiore per produrlo pertanto il vermicompost viene utilizzato più frequentemente nelle culture di alto valore nei settori del vivaismo dell'orticoltura del vigneto dei frutteti o persino nei campi da golf in agricoltura le applicazioni localizzate e la confettatura delle sementi a base di vermicompost possono essere utilizzate per aumentare la salute del suolo con tassi di applicazione limitati a partire da un litro per ettaro per la maggior parte dei paesi membri dell'unione europea sono quasi assenti regolamenti specifici per il vermicomposting soprattutto se prodotto in ambienti chiusi non è necessario temere emissioni di odori o perdite in in alcuni stati dell'UE i regolamenti considerano il vermicompost come un fertilizzante anziché un compost a differenza del compostaggio termofilo non esiste un volume minimo per il vermicomposting quantità significative che verranno utilizzate per la produzione dovrebbero subire un processo in due fasi la prima parte è una fase termofila per uccidere i semi di erbe infestanti e potenziali agenti patogeni di piante o umani questo passaggio inoltre frammenta la materia prima la omogeneizza e ammorbidisce nonché aiuta a stabilizzare il materiale che altrimenti aumenterebbe la temperatura nel successivo processo di vermicomposting e ucciderebbe i lombrichi se la materia prima deve nutrire direttamente i lombrichi il letame proveniente da ruminanti come cavalli mucche o pecore è una buona risorsa se viene condotto un processo termofilo prima del compostaggio da parte dei lombrichi i nutrimenti organici possono provenire da fonti diverse i materiali aggiunti ai lombrichi dovrebbero avere un rapporto carbonio azoto di 25 a 1 i lombrichi hanno una gamma ristretta di condizioni ambientali favorevoli a consentire la massima produttività queste dovrebbero essere monitorate e controllate regolarmente la temperatura ottimale è tra i 15 e i 30 gradi centigradi la sopravvivenza dei lombrichi è tra 0 e 40 gradi centigradi il contenuto di umidità preferito è compreso tra il 60 e l'80 per cento l'ossigeno deve essere sempre disponibile nell'area di produzione del vermicompost viene fornito anche attraverso il flusso d'aria pertanto il materiale della lettiera deve avere una buona struttura fisica il ph del materiale deve essere compreso tra 5 e 8 e le concentrazioni di sale non devono essere troppo alte le operazioni di produzione del vermicompost vengono eseguite durante tutto l'anno se il clima non consente la produzione all'esterno in inverno questa può essere effettuata al chiuso nei sistemi al chiuso l'interesse per le strutture a flusso continuo è in aumento oltre alla produzione del compost è importante monitorare anche la qualità del compost prodotto abbiamo preparato un video best for soil anche su questo argomento le norme relativi all'applicazione del vermicompost differiscono in ciascuno stato membro dell'unione europea generalmente il vermicompost è considerato compost o fertilizzante pertanto per ogni utilizzo possono essere applicate diverse normative e l'operatore deve assicurarsi di seguire attentamente queste normative il vermicompost applicato come fertilizzante a causa dell'elevato costo del prodotto viene spesso utilizzato in piccole quantità gli estratti liquidi del compost vengono utilizzati per il trattamento delle sementi come nutrimento fogliare o come inoculante per il terreno il vermicompost può anche essere usato per incorporarlo alla semina o come ammendante del suolo o come stimolante all'atto della messa a dimora di vigneti o frutteti la produzione di compost è un processo che richiede un buon know-how e una certa esperienza per produrre un materiale di qualità per ottenere maggiori informazioni sul compost si può visitare il sito web best for soil dove trovare ulteriori risorse